Alla fine questa legge funziona sui beni confiscati? Sicuramente la legge 109, quella del 1996, che ha introdotto il principio dell'uso sociale dei beni confiscati, grazie all'applicazione di questa legge si sono prodotti enormi risultati sul territorio nazionale, in particolare sul territorio regionale della nostra terra. Pensiamo alle esperienze di consorsi dei comuni, di cooperative sociali che gestiscono per fine della sociali i beni confiscati alle consorterie mafiose. Sono passati degli anni, sono stati fatti degli interventi correttivi, ma purtroppo molte situazioni critiche rimangono. Prima tra tutti l'assenza di risorse ordinarie che consentono alle municipalità di recuperare i beni confiscati ai boss. Non si può più attendere. Ma perché non si attinge per esempio ai miliardi di euro sequestrati in liquidità alle consorterie? Mi riferivo proprio a quello, il Fondo Unico Giustizia non può essere destinato esclusivamente, seppur è fondamentale, alle forze dell'ordine o alla informatizzazione dei processi. È necessario reinvestire quelle risorse per recuperare i beni confiscati e recuperare quindi il territorio alla legalità con iniziative di carattere sociale. Bisogna destinare parte di quelle risorse appunto al recupero dei beni confiscati che a se spesso vengono assegnati ai comuni in condizioni di totale abbandono. Mettiamolo così, perché si dura anni quello che è dal sequestro alla confisca e poi addirittura, come diceva giustamente lei, arrivano ai comuni già devastati o addirittura chiusi per fallimento o addirittura con gravano di ipoteche? Sì, è un procedimento molto complesso, è un procedimento giurisdizionale che necessita ovviamente appunto anche dei correttivi per ridurre i tempi. Non è possibile aspettare tutti quegli anni, proprio perché molto spesso quei beni che hanno già un particolare valore simbolico vengono assegnati alle municipalità in condizioni, nella migliore delle ipotesi, in condizioni di totale abbandono. Poi mettiamoci anche che a se spesso i mafiosi nel momento in cui gli viene sequestrato il bene lo devastano proprio per impedire allo Stato di remettere nel circuito dell'economia legale quindi è necessario intervenire da un punto di vista normativo anche su questi aspetti per ridurre notevolmente i tempi. Beni confiscati alla mafia, quanto è importante riportarli alla comunità? È decisivo, è fondamentale ed è il senso della legge che abbiamo voluto nel 1996. Una legge che è il segno che l'intera Italia, non è una questione che riguarda solo questa terra solo la Sicilia o solo il sud, l'intera Italia è in grado di mobilitarsi, è in grado di spingere su determinati argomenti quando ci mette testa e cuore. Questa legge è una legge al plurale, è una legge che è stata sottoscritta da un milione di cittadini significa migliaia di associazioni, significa migliaia di realtà, significa che c'è un plurale dentro questa legge e non è possibile aspettare ancora tempo, non è possibile lasciare nessuno indietro cosa intendo dire lasciare nessuno indietro? Non è possibile che aziende chiudano e che i lavoratori delle aziende confiscate poi non trovino più possibilità occupazionali, non è possibile che i tempi siano ancora così lunghi non è possibile che associazioni cooperative, piccole e grandi che siano, non abbiano a disposizione strumenti concreti per la ristrutturazione e non è possibile che i tribunali che seguono materialmente le confische oppure l'agenzia per i beni confiscati, che è il soggetto gestore, non abbia strumenti quando dico strumenti significa risorse per il personale che gestisce e amministra il bene confiscato che si chiami azienda o che si chiami bene immobile, siamo qui per questo, perché vogliamo dare spazio e voce a tutte queste realtà che gestiscono i beni confiscati e in quello spazio trovare un modo per ripartire. Ma rivista questa legge? Questa legge va adattata, questa legge va certamente adattata rispetto alle cose che sono cambiate in questi anni perché le mafie si sono fatte più viscide, le mafie sono fatte più infide, le mafie si adattano, le mafie non si intestano più nemmeno uno spillo, le mafie si stanno chiaramente spingendo sul tema forte delle aziende e su questo argomento bisogna fare una riflessione, siamo qui proprio per questo motivo. Ma rivista quella che è sui beni sequestrati, visto che la lungaggine parte proprio da lì, il 90% si dice che dei beni sequestrati già va in fallimento prima di passare alla confisca definitiva. Su questo bisogna fare una riflessione perché quando l'azienda era proprietà del mafioso, quando era il mafioso a gestirla era tutto relativamente più semplice perché chiaramente il mafioso condizionava, aiutava, spingeva su determinate questioni, quando arriva poi la disponibilità dello Stato e il soggetto istituzionale tutto diventa più complicato, nessuno compra più da un'azienda nella legalità e quindi su questo tema, sul tema del sequesto, certamente bisogna fare dei ragionamenti e qui sono presenti i amministratori giudiziari, qui sono presenti i soggetti protagonisti di questi procedimenti e quindi è vero, anche nel sequesto bisogna fare una chiara e attenta riflessione. Il codice antimafia, che è una legge molto importante, ma che è una legge che proprio in materia di gestione di aziende e di imprese poteva essere fatta meglio. Come quotidianamente poi i problemi con lo Stato bisogna risolverli? Quali sono? In cosa l'amministrazione pubblica non sempre è attenta? Per fare un esempio, se vuole banale, ma credo che renda l'idea, nel momento in cui lo Stato attraverso l'amministratore giudiziario si immette nella gestione dell'azienda confiscata trova per esempio tutta una serie di situazioni che sono di tipo illegale, ad esempio i contratti di lavoro in nero. E' chiaro che l'amministratore giudiziario per prima cosa deve regolarizzare e legalizzare questi rapporti ne discende in termini economici un maggior onere per l'azienda che quindi ha un crollo di competitività nel confronto con le altre aziende. Così come per esempio in tema di vendita dei propri prodotti, perché spesso le imprese mafiose si avvalgono di strumenti che non sono quelli del libro mercato ma sono quelli dell'imposizione. Ecco che l'amministratore giudiziario si trova a gestire un'azienda che nel momento in cui gli viene consegnata presenta da subito dei momenti di criticità. Su questo la legislazione può fare di più proprio su questi temi che le ho accennato e ecco oggi è un momento di riflessione e di confronto su questi aspetti specifici anche. La legge sui beni sequestrati ma funziona? Purtroppo no, nel corso di questi ultimi anni si sono rivelato una serie di criticità non indifferenti che riguardano non soltanto i beni che vengono confiscati ma riguardano anche i beni sotto amministrazione giudiziaria. Abbiamo una serie di segnalazioni che purtroppo crescono di giorno in giorno. Alliscono? Evidenziano l'incapacità, l'impossibilità a restare sul mercato quindi quotidianamente la lotta rischia anche di diventare per salvare i lavoratori il posto di lavoro di quelle persone che lavorano appunto in questi beni che sono sotto amministrazione giudiziaria. Lei ha fatto recepire un po' questa legge forse ma anche modificandola all'Europa ma diciamo si dovrebbe rivedere un po' tutta? Noi non abbiamo fatto recepire questa legge noi abbiamo introdotto al Parlamento Europeo che ha votato a stragrande maggioranza il 23 ottobre scorso un testo unico antimafia ovviamente noi abbiamo cercato di prendere spunto dal meglio dalla legislazione antimafia italiana che senza ombra di dubbio possiamo considerare come riferimento internazionale ovviamente abbiamo cercato di introdurre il tutto apportando quelle modifiche alle criticità che nel corso degli anni sono emerse devo anche dire che noi proprio per cercare di consegnare un testo quanto più ambizioso e più utile possibile abbiamo consultato non soltanto le autorità italiane abbiamo consultato tutte le autorità ricordo che l'Irlanda stranamente però l'Irlanda ha un buon testo che riguarda il sequestro e la confisca dei beni del loro riutilizzo ma noi siamo stati anche negli Stati Uniti e parlando con il Vice Ministro della Giustizia James Cole parlando anche con il Direttore dell'OFAC del Dipartimento del Tesoro abbiamo scoperto che loro hanno un buon sistema normativo che consente non soltanto il sequestro e la confisca ma il riutilizzo addirittura la vendita in modo tale che il provento della vendita poi viene suddiviso tra l'agenzia investigativa che ha effettuato il sequestro e lo Stato federale sul quale il tutto è avvenuto quindi sono anche strumenti che noi dobbiamo capire come introdurre e quale introdurre io proprio in questi giorni sono stata convocata dalla Commissione Antimafia del Parlamento e del Camere Senato italiani quindi insomma discuteremo di questi aspetti si va verso una modifica? credo che sia auspicabile non sia soltanto auspicabile credo e spero venga fatta il più presto possibile Musica Musica